Ciao a tutti amici di Avora Magazine, oggi vi presentiamo un'app di nome Zunes, è sviluppata per Android da The Gang of Three. Si tratta di un'applicazione di utilità, permette infatti di automatizzare comodamente alcune impostazioni del telefono sulla base delle posizioni che scegliamo. Questa che vedete è l'interfaccia di base, da qui possiamo selezionare le posizioni e stabilire sulla base di queste quale sarà il comportamento del telefono o del tablet. Prima di vedere come funziona effettivamente l'applicazione, passiamo alle impostazioni e vediamo cosa si può configurare qui. Innanzitutto si può determinare con quale frequenza vogliamo aggiornare la nostra posizione. Vi ricordo che questa determinerà il cambiamento delle impostazioni. oltretutto questa determinerà anche l'utilizzo del chip GPS e lo sfruttamento della rete. Quindi scegliete degli intervalli che non generino troppo consumo della batteria. Possiamo abilitare o disabilitare le notifiche e vedere la cronologia dei nostri check-in. Ok. L'impostazione di base per la frequenza d'aggiornamento è di 10 minuti. Per il momento io la lascerei così. Dunque, tornando indietro di un passo, ritorniamo all'interfaccia di base e vediamo come funziona effettivamente questo software, questa applicazione. Dunque, ci troviamo qui a Roma in questo momento e facciamo conto per esempio di lavorare a Piazza del Popolo. Che so. Ok. Tramite i tasti che vedete in basso, quello verde sulla sinistra e quello rosso a destra, praticamente abbiamo il controllo di tutta l'applicazione. Premendo qua in basso a sinistra possiamo far sì di aggiungere un punto caldo praticamente alla nostra lista. Vedete, si è acceso il pulsante verde, premiamo su Piazza del Popolo e stabiliamo il raggio entro il quale attivare una certa configurazione e diamo l'ok. A questo punto ci viene chiesto, in questa zona, in questo punto, cosa vuoi che succeda? Diamo intanto un nome al marker e gli possiamo dire, per esempio, di attivare la modalità silenziosa, di attivare la vibrazione oppure di tornare al modo normale, quindi suoneria e vibrazione oppure solamente suoneria a seconda di quello che voi avete scelto nelle impostazioni del vostro telefono. Dopodiché, non si vede adesso, ecco, si può anche selezionare di fare il check-in su Foursquare ogni volta che raggiungiamo questa postazione. Diamo l'ok e, se non abbiamo Foursquare, e io non lo utilizzo, ci verrà aperto il Play Store per scaricarlo. E questa applicazione, quindi, tramite comunque un collegamento a Foursquare, farà il check-in automatico nelle zone che voi sceglierete. Adesso aggiungiamo un'altra postazione, che può essere, per esempio, quella di casa. Diamo l'ok per il raggio, ci sta bene. Mettiamo casa nel nostro nome e diciamo che, per esempio, vogliamo il modo normale attivato. Benissimo, e ne abbiamo attivato un'altra. Quella è il raggio all'interno del quale sarà attivato il modo d'uso che abbiamo scelto. Se questo luogo non ci interessa più ad un certo punto, perché, boh, ci siamo trasferiti oppure dal luogo di lavoro e ci siamo spostati, oppure è semplicemente un posto che non frequentiamo più, quello che possiamo fare è eliminarlo. Dalla solita schermata principale, premiamo il tasto rosso e lo eliminiamo con un tap. Così, semplicemente. E poi siamo pronti ad inserire o cancellare nuove postazioni. Cosa altro vi posso dire? Questa applicazione è molto utile per chi spesso dimentica di modificare la suoneria a seconda del luogo in cui si trova. Effettivamente è fastidioso essere in riunione, al lavoro, ed avere una suoneria, magari anche imbarazzante, che parte a tutto volume. Stabilendo dei punti all'interno dei quali, delle zone all'interno dei quali, per esempio, volete che il vostro telefono rimanga silenzioso, siete a riparo da queste brutte figure. Per questa video recensione è tutto, ci rivediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.